No! Good morning! Good morning da tutti noi, PG di Cuneo e di Fossano. Mentre loro vi salutano... No, dovete andare di là. Io non cambierò mai i video. Ok. Siamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 18 al versetto 21. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse, Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? Gesù gli rispose, non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Pietro fa il generoso come lui nel suo carattere, nella sua vehemenza e pensa già di esagerare dicendo sette volte. Ma Gesù è di un'altra pasta. Gesù ha dentro di sé la presenza di Dio che perdona sempre, che perdona sempre, settanta volte sette, che perdona l'infinito. E così siamo chiamati a fare noi, anche se certe volte lo sappiamo, il perdono è molto complicato, molto difficile. Ci sono delle ferite veramente grandi. Io dico continuiamo almeno a custodire il desiderio di perdonare, anche se non ce la facciamo, anche se fino all'ultimo respiro lottiamo e abbiamo qualcosa dentro che non ci permette di farlo. Ma perché noi potremmo essere capaci di perdonare? Perché perdonati, perdonati. Perché se non sperimentiamo il perdono di Dio, neppure riusciamo a perdonare gli altri. Questo è certo. Ieri noi abbiamo vissuto la giornata delle confessioni e tutte le volte che vivo con i giovani in questo momento mi accorgo di quanto sia grande la grazia, la presenza di Dio e di quanto in realtà i giovani siano in grado di percepire questa cosa qua. Poi va ancora avanti, è oggi il Vangelo. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché Costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli quanto possedeva e così saldasse il debito. Allora il servo prostrato a terra lo supplicava dicendo abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Poi sapete il Vangelo continua, quel servo va a un altro servo che ha un debito molto più piccolo con lui ma lo fa buttare in carcere e fa una gran brutta figura. Ecco la sproporzione, ecco la sproporzione. Diecimila talenti sono una cosa incredibile. Dio ci perdona sempre. Mai e poi mai, diceva Frè Roger, Dio viene a noi per farci sentire in colpa. Il Signore ti ristora, il Signore viene per incontrarti, non per giudicarti ma per perdonarti e ogni tanto diamoci questo regalo, regaliamoci il perdono di Dio che viene sempre, viene nel nostro cuore, non viene semplicemente attraverso la confessione sacramentale certo, viene nel momento in cui ci lasciamo raggiungere della presenza di Dio. Poi la confessione è un momento particolare perché ci dice che il cristianesimo è incarnazione, ci dice che bisogna confessare a un uomo o a una donna, è quello stesso, voglio dire, questa cosa qua, le nostre cose, dare un nome e confessare. Le cose belle della giornata, questi giovani che stanno camminando, stiamo camminando oggi da Laverna a Badaglia, adesso non mi ricordo più come si chiama, nei boschi, bellissimo, con un bel sole, un bel caldo comunque. Va bene, siamo in forma, domani arriveremo a Romena. Ale, buona giornata a voi!